4 ruote per terra e per mare, lo sapete noi l'auto la seguiamo a 360 gradi ma quando l'asfalto finisce, beh, ci vuole un gigante dei mari come lei, tutti noi l'abbiamo presa almeno una volta nella vita e tutti noi ci siamo chiesti, ma come funziona davvero? Oggi proviamo a scoprirlo insieme Ho l'onore di accompagnarvi dietro le quinte là dove gli occhi dei passeggeri non sono mai arrivati Ora vi sto portando all'interno del cervello della nave, il ponte di comando dove trovo il comandante Guido Pergola che mi spiegherà come si guida un bestione da 15.800 tonnellate Guido, intanto grazie per l'ospitalità Figurati, è un piacere mette a bordo Allora, andiamo! Ecco, a questa parte La prima domanda che scelgo di giocarmi con il comandante non può che essere una Guido, tagliamo subito la testa al toro Quali sono i motori di un gigante del mare come questo? I motori di questa nave sono Varsila, finlandesi Ne abbiamo quattro, 12 cilindri, doppia sovralimentazione e sviluppano 11.700 kilowatt ogni motore Cioè, aspetta, fammi capire 11.700 kilowatt, cioè ognuno di questi V12 produce 16.000 cavalli? 16.000 cavalli, esatto, circa Immaginate di alzare il cofro della vostra auto e di trovare dentro questo, un V12 grande come una casa Sono nella pancia della balena e qui che ci sono i quattro motori che alimentano questo bestione E sono uno spettacolo Il rumore assordante, il caldo insopportabile Ma si possono comunque trovare oggetti interessanti da queste parti La vostra macchina è turbo? Beh, anche la mia nave Questa è una turbina Grande così Ce n'è un'altra uguale per l'altra bancata Questo è un turbo che mi piace Diciamo che non avete badato a spese per la potenza No, non badiamo a spese per la potenza anche perché questa nave è costruita per sviluppare una certa velocità Perché commercialmente le navi devono andare forte per poter coprire distanze e poter gestire più tratti Ma parliamo di velocità, quanto va forte questa nave? Questa è una nave che sviluppa massimo 29 nodi Di crociera 27,5 facciamo Quindi, se non ricordo male, vuol dire che questa nave viaggia intorno ai 55 km orari? Circa, sì Ma mi sembra che vada abbastanza forte o sbaglio? Io è rimasto che le navi andavano più o meno a 40 all'ora Sì, negli anni 90 e poi 2000 c'è stata questa evoluzione delle navi Hanno fatto questi motori potenti, navi veloci I materiali sono cambiati, le navi sono più leggere Quindi possiamo arrivare a questa velocità Senza problemi Ma per alimentare questi enormi V12 Ci sarà un super serbatoio di gasolio, credo Sì, certamente Abbiamo diversi depositi di carburante La nave naviga con un nafta pesante E consuma circa dalle 6 alle 8 tonnellate l'ora Ok, non è un consumo da ibrida Ma dovete considerare che la Mega Express 2 È una vera città sull'acqua Che trasporta una marea di persone Quante? La nave può portare 2000 persone Compreso l'equipaggio L'equipaggio è circa 100 persone E invece, quante auto ci stanno nella pancia di questa nave? Questa nave può trasportare 550 auto Quindi, ancora una volta, tutto è relativo Anche perché il carburante qui serve a generare Tutta l'elettricità necessaria a questo palazzo viaggiante Scendo di nuovo nelle viscere della Mega Express 2 E scopro che qui c'è una vera centrale elettrica dell'Enel E se il quadro elettrico di casa vostra vi sembra grande e complicato Beh, è solo perché non avevate ancora visto questo Sulla nave abbiamo tre generatori Che sono dei motori alla fine Sono dei motori Anch'essi a nafta pesante In porto li facciamo andare a diesel Ora però è arrivato il momento di capire come si guida questo bestione Guido, tu sei il comandante E da qui hai il controllo di tutto Ma è un po' come quando io sono in macchina Se vogliamo Ma come si fa a guidare questo mezzo? Allora, bisogna intanto cominciare a dire che la nave ha due eliche Ogni coppia di motori muove un'elica E' mossa da queste leve Quindi io metto avanti la leva E vado avanti la spinta Metto indietro, la spinta viene indietro Questo tipo di elica, una elica moderna Ha le pale orientabile Quindi si dice elica a passo variabile Quindi io Si dice anche per le turbine Delle sovravvimentazioni dei motori delle macchie Ah sì, vedi, imparò qualcosa anche io Quindi il motore gira 510 giri L'asse dell'elica molto meno E le eliche girano sempre nel stesso senso La spinta in avanti o indietro Le la do io cambiando l'angolo delle pale Beh, ovviamente oltre alle eliche Immagino che ci siano anche dei timoni Certo Per ogni elica abbiamo un timone Sono abbastanza grandi Quanto? Sono 17 metri quadrati In manovra si possono muovere da questa leva Quindi non c'è più, diciamo, il timone Come si vedeva nei film sui vascelli enorme Il timone c'è, è centrale È piccolino, elettrico E si usa in navigazione Ma è difficile da guidare Immagino di sì Viste le dimensioni Diciamo che ci vuole un po' di pratica Perché muovere una nave È completamente differente Di muovere un mezzo Ad esempio su ruote Che tu ben conosci La macchina sta ferma Anche se arriva una folata di vento La nave si sposta Con le correnti Che ci possono essere anche nel porto Si sposta col vento Ancora di più con le raffiche Quindi uno deve calcolare anche la raffica Perché ha una superficie enorme Quanto è lunga? Allora la nave è lunga 176 metri Larga 25 È una notevole superficie velica Quindi il vento Si sente molto La difficoltà E per questo ci vuole esperienza È anticipare L'azione del vento La corrente Perché la risposta Alla nave non è immediata Perché c'è tanta inerzia C'è tanta inerzia Perché se tu in un certo momento Hai una raffica forte Che ti fa spostare la nave Verso una banchina Devi averla già contrastata E come fai a sapere Che sta per arrivare Una raffica di vento Per esempio Ci sono diversi sistemi Intanto ho un anemometro qua Che mi dice Però quando è arrivata la raffica Ma quando mi sono avvicinato al porto Io già controllo Le raffiche ci sono Poi imbarca Un esperto del porto Il pilota E mi dice Che sono raffiche a 30 nodi Da nord ovest Ho questa informazione da lui E manovro di conseguenza E voi da qui Una volta che avete calcolato tutto Cosa riuscite a fare? Cioè su quali organi intervenite? Cosa azionate? L'avanti e indietro Li do con le eliche Ma non solo Li do anche lo spostamento trasversale Della poppa Creando una coppia di forze Con le due eliche Un po' come i cingoli Di un caro armato Un po' come i cingoli Di un caro armato Ma bisogna amplificare Il movimento col timone E inoltre Le navi moderne Come questa Hanno le eliche di manovra Di prora Di bow thruster Ne abbiamo due E spingono la prora Da una parte all'altra E come funzionano? Mi sembra interessante È come se ci fosse un tunnel Che attraversa lo scafo Ho capito bene? Esattamente Ci sono dei tunnel trasversali Con l'acqua che passa dentro E un elica all'interno E basta muovere questa leva Da una parte all'altra Ma non ci scordiamo Che abbiamo a bordo Anche delle ancore A 4500 kg l'una Wow Con 10 lunghezze di catena Per ancora Una lunghezza di catena È circa 27 metri E le ancore Vengono utilizzate Ad esempio Per fare perno Sulla prora E per girare Solo con il motore di poppa O per fermare la nave In caso di smergenza Mi ricordo Quando ero un ragazzo Su una nave In Messico In arrivo alla banchina Abbiamo avuto un blackout Abbiamo dovuto dare fondo Alle ancore Per fermare la nave Prima che arrivasse Contro la banchina Una specie di freno a mano Lo so Lo avete pensato anche voi Ma no Non si può fare drifting Con una nave A colpi di ancora In compenso Ho scoperto Che è piena zeppa Di sistemi avanzatissimi Guido Le auto di oggi Come sai Sono sempre più tecnologiche Hanno sempre più sistemi Di assistenza Alla guida Per migliorare la sicurezza E anche il comfort Immagino che un organismo Compesso con una nave Abbia tantissime tecnologie Sì certo Qui potrete vedere Che abbiamo Tutte le telecamere Di sicurezza E security Radar Ectis Cioè sistema moderno Di carta elettronica I vari comandi Nave Giro pilota E timone Il famoso timone Il famoso timone Sì sì E poi Varia strumentazione Telefoni di emergenza Linea normale Altro radar Stabilizzatori Per smorzare il rollio E poi Come dicevi te Per la sicurezza C'è una console dedicata Dove abbiamo Il controllo Delle parattie stagne Quindi La nave Rilevazione incendio Porte tagliafuoco Morale Per contenere La strumentazione Di un'auto Basta una semplice plancia Qui invece È servita Una stanza intera Questa è la strumentazione Dei motori Tutta analogica Come vedete Come piace a me Controllo motori Telecamera anche qua E questa è una cosa Interessante Che utilizziamo L'economizzatore Prende La temperatura Dei gas di scarico Dei diesel Il calore Va a riscaldare Dell'olio diatermico Che ci serve Per riscaldare Poi la nafta pesante Per poterla buttare Nei motori E farla bruciare Per parcheggiare La vostra auto Usate specchi E telecamere Il comandante Di una nave Invece preferisce Fluttuare Nel vuoto Ti confesso una cosa Io soffro Tremendamente Di vertigini E qui Sono su una botola Sospeso Praticamente Nel vuoto A 22 metri Ma era proprio necessario Farla Poi siamo sicuri Che tenga Si potrebbe anche non fare Non è obbligatoria L'unica cosa Che è molto utile Per il comandante Avere la possibilità Di vedere la banchina Sotto di sé Per avere esattamente La posizione corretta Della nave Ma noi abbiamo La posizione di guida Corretta in macchina Anche tu Hai la tua posizione di guida Questa è la posizione Classica di manovra Del comandante Deve essere girato In questa maniera Per poter vedere Tutta la nave In quanto La difficoltà Della manovra Sta nell'anticipare Gli agenti esterni Che fanno muovere la nave Vento e corrente Ma questo vale solo in porto Per il resto Invece La nave è un po' Come un aereo In condizioni normali In mare aperto Viaggia in maniera autonoma Grazie alle sue tecnologie Ma attenzione Perché il mare non perdona E in caso di pericolo È solo l'uomo A saper fare la differenza Ed è per questo Che un bravo comandante Sa navigare ancora oggi Come una volta Con in sé stante La cartografia E l'interpretazione Dei venti E delle stelle Quindi la tecnologia C'è Però Per comandare una nave Bisogna ancora Sapere Conoscere tutte le regole Dei vecchi marinai Beh sì In definitiva Non è cambiato molto C'è sempre la nave C'è sempre il mare Ci sono le onde C'è il vento Ma ora non mi resta Che chiedervi Vi è piaciuta Questa nuova puntata E soprattutto Volete nuovi episodi Dedicati ai mezzi speciali Raccontatemelo Nei commenti qui sotto Ciao Alla prossima Chi lo sa Alla prossima Alla prossima Alla prossima